Allora abbiamo il set delle quattro carte e ora vediamo come poter mostrare le due donne che abbiamo sul fondo come se avessimo quattro donne. Si fa così, mano sinistra, pollice, indice e sfido due carte dal centro in questo modo. Indice sotto, pollice sopra, mostro due carte, mi aiuto con il pollice, giro e mostro la donna che appoggio sul tavolo. In realtà appoggio l'asso, dal fondo due carte, prendo, giro e mostro la seconda donna. Di nuovo doppia presa, quindi mi aiuto col pollice, giro e appoggio sul tavolo. Terza e quarta carta, strofini sugli avambracci e mostri ancora due donne. Allarghi un po' le due donne in maniera tale che sei agevolato ad andare sotto. Vai sotto, vai sotto anche di qua e mostri uno, due, tre e quattro donne. Prendi tutte quante le donne e le appoggi qua sopra il mazzo. In realtà l'ultima carta che è un asso la metti in cima al mazzo. Le restanti carte le appoggi sotto il mazzo e pronto per fare il finale. Lo spiegheremo nella prossima fase.